Si chiama Gavin Earp, è un 45 anni e pensato ha fatto una scoperta a dir poco clamorosa riguardante la moglie. Infatti ha posizionato un dispositivo di localizzazione sull'automobile proprio dell'amata moglie che è Stephanie Glenn e udite udite ha scoperto che questa donna che di lavoro di mestiere fa la poliziotta lo tradiva. Infatti l'uomo sospettava che avesse un amante e detto fatto era realmente vero. Prima da seguire in un parcheggio ha messo questo strupeto di posizionamento di giurovalizzazione per la sorpresa in automobile col collega poliziotto. L'uomo Gavin ha deciso poi di filmare per l'intero il tradimento e c'è stata questa lista tra gli accenti. C'è stato quindi uno scontro fisico che ha visto prendere parte addirittura la donna che, diciamo così, ha voluto difendere l'amante dal marito. Insomma, una vicenda veramente incredibile, azzardo a dire clamorosa, quello che si è verificato di recenti che avviene ovviamente rimasto molto appareggiato anche se sembra che era quasi certo, quindi sicuro, che la donna avesse un altro uomo, quindi un amante, un uomo con cui fa fecioso il suo. Vi ringrazio, il video termina qua. Il teatro di questa vicenda è la contiera di Inghilterra del Meryl Sire. Ciao a tutti e una buona giornata a tutti.